Oggi vi presento la continuazione di uno studio che stiamo conducendo da circa due anni, il cui obiettivo è cercare di individuare le attività più adatte con i dispositivi mobili all'interno della formazione degli insegnanti. Quindi sono proprio step progressivi e stiamo lentamente cercando di trovare gli aspetti che qualificano maggiormente l'utilizzo di questi dispositivi e di conseguenza danno significato alla formazione docente. Salto la cornice teorica per il semplice motivo che poi la potete leggere tranquillamente nei proceedings, invece mi interessa andare direttamente a ciò che è successo. Siamo dentro formazione primaria, in particolare dentro un insegnamento che potrebbe essere lo sviluppo di didattica generale, chiamato progettazione e valutazione scolastica. Nomi diversi ma gli argomenti li potete immaginare. Durante il corso sono state svolte queste quattro attività. Quindi un'attività in aula, centrata su il docente che parla, gli studenti che devono in qualche modo prendere appunti. La seconda attività invece era leggermente più complessa, in quanto gli studenti dovevano ricercare online delle strategie didattiche orientate allo sviluppo delle competenze, rielaborarle e proporne di altre attraverso un lavoro di discussione fra di loro. Una terza attività, hanno dovuto organizzare una potenziale lezione rovesciata con attività di problem solving, dovevano costruire un video che di fatto rappresentasse l'inizio della lezione rovesciata in un'ipotetica attuazione reale in una classe. E l'ultima era completamente fuori dalla, quindi la seconda e la terza avevano, la prima era totalmente in aula, la seconda e la terza erano fra Laura, ti ho guardato e ho detto fra Laura, fra l'aula e casa o comunque fuori dall'università. E l'ultima invece era completamente fuori, perché? Perché si trattava di un'intervista agli insegnanti durante il tirocinio, a proposito in questo caso l'oggetto era la valutazione formativa e sommativa, ma potevano anche essere altri oggetti. Gli studenti dovevano riportare queste informazioni sulla cloud, discuterle, circoscriverle e via dicendo. Quindi di fatto era completamente svolta al di fuori. Questo è il modello che abbiamo utilizzato, per cui i fattori che ci interessava vedere come stessero evolvendo, erano proprio, andavano da un basso utilizzo del dispositivo mobile, utilizzo un'app per prendere appunti, punto e basta, un basso utilizzo, da un alto livello di utilizzo, quindi molte applicazioni, molti tipi di attività, da un basso carico cognitivo a un alto carico cognitivo, da un basso livello di interazione a un alto livello di interazioni e in parallelo, quindi un alto livello di guidance da parte del docente, a un basso livello. In diagonale, vedete proprio, da un basso livello di ubiquità ad un alto livello di ubiquità. Qui ci sono nove punti, perché poi ci sono state anche tante attività nel corso degli anni, ma avete capito il meccanismo, quindi da attività molto semplici, svolte in aula, praticamente in maniera individuale, a attività svolte in gruppo, molto complesse, non in aula ma in tanti posti. Quindi questo è un po' il modello che abbiamo cercato di seguire. Abbiamo chiesto agli studenti di vedere se c'erano dei cambiamenti a livello di memorizzazione, nella ricerca e nell'elaborazione di informazioni, a livello di pensiero critico, a livello di riflessione sulle proprie strategie d'apprendimento. Primo limite già discusso l'anno scorso. La rilevazione è auto rilevazione, quindi non è una reale rilevazione. L'obiettivo era, monitorando l'andamento di questi fattori, cerchiamo di capire quale sia l'attività corretta. Quindi spero abbiate capito il senso. L'obiettivo non è misurare direttamente, quindi avere un reale livello di metacognizione degli studenti, ma cercare, attraverso il monitoraggio di questi fattori, dire quali sono le attività che ci sembrano più adatte per la formazione docente. È chiara la differenza? Quindi non possiamo definire che il livello di metacognizione è più elevato in quelle situazioni. Questo mi preme sottolinearlo. 58 studenti che hanno usato o lo smartphone o il tablet, ora capirete perché. La struttura del questionario, di nuovo, avrete modo di leggerla negli atti, abbiate pazienza. Questa è la rilevazione quantitativa, poi c'è quella qualitativa, riferita agli smartphone, e ora vi spiegherò il perché. Perché se negli studi precedenti il tablet risultava, perché il tablet risultava più significativo nelle attività in aula, mano a mano che abbiamo allargato le attività, e ci siamo spostati fuori dall'aula, a quel punto il tablet ha perso, fra virgolette, importanza, e gli studenti hanno sottolineato invece l'utilità dello smartphone per una serie di... cerco di sintetizzare. Il tablet sembra più adatto quando si fanno attività in aula, anche adesso l'ha detto proprio Bill Coop, quando gli ho chiesto se la loro piattaforma è utilizzabile anche con i dispositivi mobili, e lui mi ha detto, mh, si è visto, no? E ha detto, no, di fatto lo schermo è largo, e quindi di fatto è laptop, perché ci sono una serie di attività che innegabilmente si sviluppano meglio lì, e quindi in quel caso, e anche in questo caso, il tablet diventa più utile quando devi creare materiali digitali. Allora in quel caso è innegabile che se io devo creare un video o una presentazione multimediale con questo, beh, è semplicemente più difficile. Invece con un tablet diventa più fattibile. Invece lo smartphone si è rivelato molto più smart, perdonate il gioco di parole, quando sono completamente fuori dall'aula. L'obiettivo non è creare materiali digitali, ma è più interagire, scambiare informazioni, opinioni. Sono in classe, di conseguenza, non è che posso mettermi lì, lavorando disturberei di fatto la lezione. Invece lo smartphone tende ad essere molto più agibile. In questo caso, si è chiaramente evidenziato come la prima lezione, così che è stato ribadito di fatto nello studio, ha relativamente poco senso. Cioè, prendere appunti con... Beh, è meglio il quaderno che non un tablet. È meglio un quaderno e nei qualitativi gli studenti lo dicevano chiaramente. È anche vero che a seconda del livello di attività, cioè più si va sul livello di ubiquità, vale a dire, mi spiego, se io prendo appunti in aula per poi condividerli online e svilupparli online, allora in quel caso il dispositivo mobile aumenta l'importanza. Se invece rimane un'attività finalizzata esclusivamente all'individuo e al contesto, in questo caso l'aula, che sia di scuola superiore o università, cambia poco, a quel punto mi viene tranquillamente da dire mettiti via il tablet, usa il quaderno che è molto più pregnante. Le altre attività invece, mano a mano, nella seconda e la terza c'era una produzione digitale, quindi lì diventava necessario e nella quarta invece sei completamente fuori e di conseguenza il punto centrale diventa l'interazione, l'interazione fra lo studente. Non vi ho messo quella dei tablet, infatti, perché vedreste di fatto lo stesso andamento, tranne la quarta attività che è molto più bassa, proprio perché gli studenti hanno espresso questo, hanno espresso questo, ed è già un'osservazione che a me personalmente interessa, perché, visto che la prospettiva è aumentare sempre di più le attività di supporto online al tirocigno, ne parlavamo giusto ieri col collega, e allora mi viene quasi da dire beh, dipende cosa vuoi fare, se vuoi creare materiali digitali, se invece vuoi creare interazione e scambio di informazioni, allora probabilmente è meglio il dispositivo mobile piccolo. Perfetto, grazie. Sarebbe bellissimo analizzare le risposte qualitative che erano veramente interessanti, ma è evidentemente impossibile. Si rinota questo andamento, erano molto critiche sulla quarta attività, sulla prima, in senso palesemente negativo, cioè dire, c'era proprio scritto prof, ma cosa me ne faccio, ero incasinato, mentre lei, io considerate che la struttura della lezione era veramente tradizionale, cioè parlavo, immaginatevi come facciamo spesso, e poi lasciavo cinque minuti di pausa per rielaborare, non so, ci sono delle informazioni che ho detto che non ho capito, me le vado a cercare, però il valore aggiunto del dispositivo mobile era veramente basso, era veramente basso in quella struttura di lezione, in quella, e con quella, quindi sia ben chiaro. Invece, e quindi anche per quanto riguarda il fattore memorizzazione, la postura, mi vorrebbe quasi da dire, della relazione fra dispositivo mobile e struttura cognitiva dello studente, beh, le indicazioni sembra che veramente l'incidenza sulla memorizzazione sia piuttosto bassa, traduco, non ha molto senso, se devo studiare per un esame in maniera, come, devo studiare un libro, devo, ha proprio poco senso l'utilizzo del dispositivo mobile, quando invece ci sono da elaborare dei materiali digitali, allora l'incidenza aumenta parecchio. Concludendo, di conseguenza, posso dire un sì pieno alle attività due e tre e alla fattore della ricerca e della lavorazione di informazioni che si è ribadito ancora una volta un'affordance chiara dei dispositivi mobili. E va bene, c'è da lavorare sulle attività completamente al di fuori e in particolare sui fattori riguardanti il pensiero critico e la riflessione sulle proprie strategie di apprendimento, c'è da lavorare. Mi viene da dire no a attività completamente in aula che siano finalizzate a quello che vi ho detto prima e sappiate, almeno questa è la nostra esperienza, che non vanno a incidere sulla memorizzazione. Quindi qual è la prospettiva di quest'anno? La prospettiva di quest'anno è sviluppare la A4 in poche parole, riuscire a cercare ancora meglio quali sono le attività più adatte fra il tirocinio e l'aula. Al momento, anche per continuare l'iscluso che facevamo ieri, è più un rapporto fra docente della disciplina e studente che, diciamo, fra virgolette sfrutta il tirocinio per, ci piacerebbe coinvolgere i supervisori in maniera tale che poi lo sviluppo sia veramente sul tutoraggio a distanza tramite mobile, ma questo è un passo onestamente a cui non credo arriveremo quest'anno, lo dico sinceramente. È anche vero che fortunatamente abbiamo avuto dei contatti con l'università di Utrecht, di Hull e di Bath, che è nel ovest dell'Inghilterra, e che ci hanno detto che ci piacerebbe fare le stesse attività per vedere come in diversi contesti si stanno sviluppando. Quindi sappiate che la prossima puntata sarà, speriamo, una piacevole comparazione in contesti anche differenti, molto diversi, perché chiaramente... Quindi ecco, vi ringrazio. e... Ecco, benissimo. Per una, adesso vediamo quanto tempo si può ascoltare. Prego, a voi. Prego, ci mancherebbe. Portate il microfono. Perché ho una cosa da poco. Dicevi che gli studenti usavano in aula il tablet per fare, per prendere appunti, no? E che non lo ritrovivano invece utile, no? Preferivano... Allora mi chiedo, ma hanno usato delle app specifiche oppure era semplicemente un work processor attraverso il quale potevano scrivere? E magari, scusa, se usavano delle app, quale cosa aggiuntiva avrebbero dovuto fare queste app per... Può avere delle differenziazioni. Un limite di questo studio, me l'avevano fatto notare molto bene i colleghi finlandesi, che loro sono molto... Era che un collega aveva proprio chiesto ma quale app hai usato? Perché noi se facciamo uno studio lo facciamo su quella app, in quell'attività per vedere se funzionano o no quella app. Pa-pam! E invece questo si è notato e hai fatto bene a sottolinearlo perché mi ero dimenticato di dirlo. Qual è il contesto italiano che io cerco di fare anche intuire a livello internazionale? Che è veramente quello che gli studenti hanno quello che hanno, vale a dire smartphone e tablet molto differenti. Di conseguenza le app sono molto generiche. Il limite dello studio non posso vedere specificatamente quella app se funziona, non so, potrei dire prendete appunti tramite una app di mappe concettuali e studiare quello che succede con quella app mentre parlo sarebbe uno studio sicuramente più mirato e quindi mi darebbe probabilmente informazioni più specifiche che so in Finlandia è normale che le aziende di app contattano l'università e l'università le testa sugli studenti è normale al di là del fatto che sia normale o meno in Italia non mi interessa tanto questo al momento mi interessa dire in una formazione degli insegnanti la prima attività potrebbe essere per qualsiasi docenza non solo per la formazione degli insegnanti quanto possa aver significato visto che l'obiettivo nostro non è testare una app però è anche vero che è un punto non banale cioè a seconda dell'app che utilizzi è ovvio che puoi avere risultati molto differenti però immaginate l'inizio del corso e così che poi concludo è stato fra virgolette difficile perché abbiamo dovuto non dico uniformare ma quantomeno fare in maniera che ogni studente avesse delle app per editare dei testi delle app per prendere appunti e riportarli online delle app per editare immagine o video o suoni le cloud che è anche qui una nota che non ho detto in attivi digitali c'era mia figlia qui l'avete vista uscire entrare io l'ho detto io gli orari del treno che deve prendere per tornare la spezia perché se no dove li pigli ma come dove li pigli ragazzi i nostri studenti primari a second anno in questo insegnamento a second anno ragazzi create un pdf pdf finisco con questa accademicissima grazie scusatevi la parola riccardo fattorini che è prego grazie a te grazie a te grazie a te